L'artista aquilana Lea Contestabile ha esposto la sua mostra Lessico Familiare Nostos all'Università di Teramo. L'iniziativa è stata del Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt. Opere magiche e magnetiche, la rinnovata ricerca dell'artista è scandita dalla mappa dei riti e della memoria del proprio percorso esistenziale. Un intimo dialogo d'amore con gli oggetti materni e paterni, che diventano carne, soffio vitale, campo semantico e il ritmo della stessa esposizione. Qual è la sua tecnica? Io lavoro per frammenti, preparo tante piccole cose, tanti oggetti che poi mi piace rimettere insieme, perché è come un ricucire, rimettere insieme tante piccole parti, tante storie, tanti momenti del mio vissuto e ricostruire un mondo che poi, ripeto, è il mio mondo, però non è soltanto il mio. Un messaggio? Un messaggio, è molto positivo il messaggio che io do, perché parlo spesso di temi non proprio allegri. Infatti c'è un lavoro che è dedicato alle donne violentate in famiglia, che è il razzo che presento qui. Però lo faccio sempre con leggerezza, cerco di raccontare delle tematiche non proprio facili, non proprio leggere, però con una tecnica invece molto più poetica, molto più vicina proprio al mondo, alla sensibilità femminile. L'artista, con l'uso sapiente dei fili, materia e memoria del mito, cuce tra loro piccoli scampoli di stoffa e di lana, materiali di recupero, che attingono alla storia, alla memoria dei gesti femminili della terra d'Abruzzo, suggestioni di mani di donne di un tempo.